Come investire i tuoi primi 10.000 euro sul mercato o meglio come raggiungere i primi 10.000 euro da poter investire sul mercato perché mi rendo conto che tanti non hanno una disponibilità di questo tipo molte persone hanno una disponibilità magari da poter investire di 1000 2000 euro 10.000 euro è già un po una soglia relativamente grossa che in realtà nel mondo degli investimenti è infinitesimale è molto piccola però è comunque una soglia una quantità di denaro che ci permette di iniziare a far bene insomma in questo video ti guiderò passo passo nel investire i tuoi primi 10.000 euro sui mercati prima cosa fondamentale è importante avere un piano finanziario e tra poco vedremo nel dettaglio come strutturarlo ed è anche importante comprendere che ci sono infinite possibilità di investimento puoi investire in azioni puoi investire in cripto puoi investire in immobili puoi investire veramente in qualsiasi cosa in arte in vini puoi investire investire in oggetti da collezione c'è veramente un mondo quello degli investimenti è veramente un mondo incredibile molto vasto e comprendere quali caratteristiche ha quali tipi di investimenti esistono quali di questi fanno di più al caso nostro rispetto altri e soprattutto aggredirli tutti con un piano d'azione ben specifico e strutturato beh questo è ciò che ci permetterà di ottenere successo nel mondo degli investimenti la prima cosa che faremo prima ancora di investire però è quella di crearci un fondo emergenza perché il fondo emergenza il fondo emergenza è quel fondo quella riserva di denaro che utilizzeremo per far fronte a degli imprevisti perché ragazzi si sa la vita è sempre piena di imprevisti può succedere qualsiasi cosa e avere una disponibilità di denaro pronta da poter essere utilizzata ci permette di essere più in pace con noi stessi no più tranquilli quindi la prima cosa da fare è quella di risparmiare andremo a risparmiare dei soldi tagliando spese inutili che stiamo affrontando e che effettivamente sono inutili cioè non ci servono per vivere quindi prendi una di quelle app che trovi sui play store o un foglio excel o un foglio di carta e ti annoti per un mese intero tutte le tue spese a questo punto vai ad analizzare quali di queste possono essere tagliate tolte quelle iniziere accantonare denaro ogni mese quel denaro lì lo si può andare a portare sulla propria riserva idealmente una riserva dovrebbe avere tra i tre e i nove mesi di spese mensili l'ideale sarebbero nove mesi significa che quel fondo di emergenza nel caso in cui tu dovessi smettere di lavorare ti può permettere di vivere tra i tre e i nove mesi quindi esempio tu stai spendendo mille euro al mese per vivere ok devi riuscire ad accantonare almeno 9.000 euro accantoni quei 9.000 euro e li tieni lì perché perché se tu domani dovessi smettere di lavorare perché ti rompi una gamba o per qualsiasi cosa ti ritroverai inevitabilmente ad aver bisogno di soldi e lì potrai utilizzare quel fondo emergenza quel fondo emergenza dovrebbe garantirti almeno nove mesi di libertà quindi tu per nove mesi puoi smettere di lavorare e hai comunque di che sopravvivere a questo punto questo fondo vai a metterlo da qualche parte dove ti genera degli interessi qui non lasciare semplicemente fermi quei soldi a svalutarsi perdere potere d'acquisto con l'inflazione perché magari non avrai bisogno e si spera no facendo corna si spera che tu non abbia bisogno domani dopo domani magari nel lungo termine 10 anni 20 anni potrebbero tornare utili nel frattempo però si svaluterebbero lasciandoli normalmente così no in baglia delle banche quello che puoi fare è cercare di andare a depositarli e dovresti farlo quindi da un lato risparmi dal secondo lato vai a depositare questi fondi da qualche parte dove ti generano interessi non devi comprare azione non devi comprare assolutamente nulla la liquidità ferma parcheggiata deve generarti degli interessi esempio io utilizzo Trade Republic ti lascio qua sotto il link ti lascio anche il video tutorial che ho fatto qua sopra e lo trovi anche comunque linkato nella descrizione del video Trade Republic ad oggi ti dà un interesse del 3.75% annualizzato sui soldi che tu vai a depositare quindi nel tempo questi interessi pagati mensilmente vanno a comporre le tue entrate comporre le tue entrate significa che quel fondo che tu stai tenendo lì come riserva aumenta appunto le sue entrate e via via va ad aumentare di quantità questo è molto molto importante i tassi interessi poi attualmente sono il 3.75 a seconda di come li muove la BCE potrebbero essere più bassi o più alti questo è importante sottolineare fino a qualche mese fa erano al 4% quindi tieni conto anche di questo però ecco ad oggi Trade Republic è una banca a tutti gli effetti quindi hai i fondi assicurati fino a 100.000 euro la mia esperienza con loro è veramente positiva creato il tuo fondo di emergenza adesso è il momento di gestire i nostri debiti e i nostri redditi quindi i nostri flussi in entrata e i nostri flussi in uscita prima cosa da fare è valutare la propria situazione finanziaria quanto è il mio reddito annuale quindi quanti soldi mi entrano dal mio lavoro o dai miei lavori se ne ho di più due quanti debiti ho mutuo della casa il finanziamento dell'auto del cellulare non lo so valuta molto bene quelli che sono i debiti e cosa importantissima la tua priorità assoluta deve essere quella di estinguere i debiti con gli interessi più alti prima vai a estinguere questi debiti più liquidità riesci a creare che riesci ad accantonare e a utilizzare ci sono magari dei debiti che stai pagando attualmente all'1% annuale si valuta se liberarli o no ma sono comunque debiti bassi che quindi non ti danno chissà quale peso sulle spalle no non ti vanno a vincolare troppo la tua liquidità quello che ti entra d'altra parte ci sono magari debiti del 15% annuale del 20% annuale come tante volte quelli delle carte di credito che in italia magari non sono così pesanti perché usiamo molto meno le carte di credito ma negli stati uniti letteralmente impiccano le persone o i debiti scolastici sono i debiti molto pesanti che spesso appunto stanno tra un 15 un 20% annualizzato perché diventa molto intelligente andare a chiudere questi debiti prima che focalizzarsi dove investire c'è io vedo molte persone che mi contattano che mi scrivono che mi chiedono che hanno semplicemente voglia di investire quindi cercano degli investimenti e quindi vogliono l'SP500 perché più o meno ti danno un 7% annualizzato ok vogliono bitcoin perché ti fai il 100 per qui e lì tutte ste robe qua d'accordissimo ma se tu parallelamente hai dei debiti attivi veramente con un 15 20% di interessi annuali da pagare taglia quelli non andare a mettere soldi negli investimenti inizia a ripagare lì 1000 euro oggi poi magari tra un po di mesi altri 1000 poi altri 1000 e pian piano vai a ripagare quel debito perché stai creando un'entrata sicura ripagando quel debito perché oggi tu hai un 15 20% di interesse che paghi per quel debito lì che significa che se tu lo tagli hai oggi un 15 20% di liquidità in più in tasca vuol dire che è come se tu avessi investito su un asset che ti ha portato il 15 20% in tasca ed è una cosa incredibile nel mondo degli investimenti la media di un SP500 è di un 7 8% annualizzato qui stiamo parlando di contro un 15 20% se tu mi dessi oggi e io ci metto la firma un 15 20% di liquidità in più ti metto la firma ti metto subito la firma sicuro e questo ripagare quel debito per te significa aver generato immediatamente un 15 20% chiaramente a seconda del debito ci sono debiti più alti debiti più bassi però significa aver risparmiato quella liquidità e un soldo risparmiato e un soldo guadagnato questa deve essere la tua priorità assoluta veramente la tua priorità assoluta taglia via i debiti che hanno degli interessi più alti in modo da avere subito della liquidità che puoi andare a investire e con la quale puoi ripagare poi i debiti più piccoli poi concentrati sul tuo reddito quindi guarda quanto è il tuo flusso in entrata quanto è il tuo reddito se il tuo reddito è basso bisogna alzarlo per alzarlo ti devi formare devi acquisire capacità nuove quindi abilità nuove capire che cosa vuole il mercato e cercare di offrire soluzioni in quella direzione devi perciò essere in grado di aumentare il tuo potenziale di guadagno per farlo devi investire su te stesso queste sono le due cose importanti devi cercare di aumentare le tue entrate dal tuo reddito attuale e costantemente ridurre i tuoi debiti se tu riesci ad aumentare le entrate e ridurre i debiti e mantenere uno stile di vita identico crei un flusso di cassa una quantità di denaro in più enorme enorme cioè tu immagina oggi guadagno 1000 euro anzi fai 1200 euro al mese 1000 euro se ne vanno di debiti di cose varie spese cagate varie facciamo che di questi 1000 euro ho dei debiti con le carte di credito se ne vanno magari 200 euro ok ora io taglio quei 200 euro quindi non spendo più 1000 ma spendo 800 e guadagno 1200 mentre prima io avevo 1200 e spendevo 1000 quindi avevo 200 euro disponibili al mese da poter accantonare sistemare il mio fondo di emergenza o se ho già il fondo emergenza eventualmente negli investimenti andando a ridurre di 200 euro perché ho tagliato delle spese ora mi ritrovo 400 euro il doppio ho fatto un per due contemporaneamente se io adesso quei 1200 inizio a lavorare su me stesso inizio a imparare delle abilità e vado ad aumentare magari a 1400 quei 200 che c'erano di gap poi sono diventati 400 adesso sono 600 e se poi taglio altri 100 euro di qualche altra spesa diventano 700 e se poi aumento di 100 ancora diventano 800 e questo è il gioco che dobbiamo fare è molto molto importante se ho debiti se ho uno stipendio basso quindi ho poche entrate devo focalizzarmi qui ancora prima di andare a investire è qui che devo focalizzarmi perché focalizzandomi qua i giochi cambiano inizio ad avere la liquidità veramente per giocare in grande a questo punto ipotizziamo di aver creato il nostro fondo d'emergenza che mi genera interessi ho tagliato la maggior parte di debiti soprattutto quelli più onerosi ho magari aumentato un pochino le mie entrate quindi ho una quantità di denaro che inizia essere libera interessante bene io quella quantità di denaro la posso prendere e investire in un piano d'accumulo perché il piano d'accumulo e soprattutto dove e come accumulare personalmente preferisco piani d'accumulo per un motivo molto semplice perché posizionandomi sul lungo termine grazie al piano d'accumulo io elimino totalmente tutto il rumore di fondo i mercati salgono scendono di continuo avere la presunzione di poter comprare il bottom quindi il prezzo più basso e vendere al prezzo più alto è una cagata pazzesca è veramente una cosa presuntuosa stupida da pensare e che ti porta a perdere soldi l'unica cosa che tu puoi fare per posizionarti sul mercato e farlo con un piano d'accumulo che ti permetta nel lungo termine di ottenere profitti se vado a fare un piano d'accumulo su un asset come può essere l'oro come può essere bitcoin come può essere qualsiasi cosa che tendenzialmente dovrebbe crescere allora io so che sto accumulando qualcosa che nel tempo dovrebbe crescere di conseguenza non mi interessa se la compro a più o meno oggi so che negli anni 5 10 anni 20 anni il suo valore sarà comunque più alto rispetto il valore a cui l'ho comprata adesso e questo è il gioco qui non mi interessa la notizia di qua quello di là quello che vende quello che va long quello che va short non me ne frega niente di tutta sta roba qui tutto il rumore di fondo tutta quella roba che porta a sbagliare sui mercati viene totalmente tagliata via poi si può andare a fare piani d'accumulo su asset più esotici o si può andare a fare piani d'accumulo su cose più semplici come può essere un banalissimo sp500 che ha un rendimento annuale medio che va tra un 7 e un 8 per cento dipende poi dagli anni magari un anno sarà sotto l'anno dopo sarà molto sopra a recuperare l'anno precedente comunque negli ultimi 100 anni il rendimento statistico di un sp500 è stato tra un 7 e un 8 per cento annualizzato di media che comunque è una buona media anche qui dove fare il piano d'accumulo dipende da te dipende la tua propensione al rischio dipende dalle tue informazioni conoscenze in ambito investimenti la cosa migliore per chi è alle prime armi con gli investimenti è andare sugli etf quindi sugli strumenti proprio come per esempio l'sp500 che sia di blackrock vanguard o qualsiasi qualsiasi basta che sia solido o un etf con esposizione magari su tutti i mercati al mondo o sull'immobiliare o sulle materie prime insomma ci sono tantissime soluzioni non ne parlo in questo video però ancora una volta per rispondere alla domanda dove farlo lo puoi fare su trade republic quello che ti ho detto prima dove tu puoi accantonare i tuoi soldi ottenere degli interessi puoi anche creare dei piani d'accumulo e secondo me trade republic è la migliore in assoluto come piattaforma per piani d'accumulo quindi per chi vuole fare piani d'accumulo perché sono gratis sono a costo zero ai fondi che parcheggi la liquidità assicurata ai interessi e quindi è veramente un qualcosa di estremamente comodo hanno tra l'altro introdotto anche la carta con cui tu puoi spendere comprare utilizzando i soldi che è sulla piattaforma quindi c'è veramente tutto ancora una volta qua sotto ti lascio il link di trade republic se ancora non l'hai provata non l'hai vista e anche qui puoi cliccare ti comparirà un piccolo banner qua cliccalo e ti rimanda direttamente alla pagina di trade republic otterrai anche tra l'altro dei bonus delle azioni bonus se ti registri con il codice che trovi qui nella descrizione del video ti conviene comunque per scegliere i tuoi etf su cui investire farlo su etf a basso costo quindi cerca strumenti a basso costo ma ben diversificati e con un rendimento potenzialmente elevato ad esempio le commissioni dell'sp 500 di high shares blackrock sono dello 0.07% se non vado errato quindi relativamente basse rispetto a quello che poi è il guadagno nel lungo termine che puoi andare a ottenere altre possibilità di investimento che ci sono come ho detto ce ne sono veramente tantissime adesso abbiamo visto il conto deposito che ti genera degli interessi come quello di trade republic abbiamo visto l'investimento su se stessi o sulle attività o sulla creazione di attività o se abbiamo già delle attività sulle attività quindi altra cosa estremamente importante è un altro tipo di investimento a mio avviso il più importante in assoluto abbiamo visto l'investimento su mercati azionari o etf abbiamo poi il trading o la speculazione però questo si può portare liquidità ma sarebbe da fare solo se si è professionisti perché fare trading è una professione a tutti gli effetti quindi devi essere un professionista per farlo devi saperlo fare perché altrimenti ti metto la firma perderai solo soldi vai sul trading solo se sei realmente in grado di farlo c'è per esempio il lending piattaforme che ti permettono di fare prestiti ad esempio c'è nexo ne ho parlato tantissimo tu che cosa fai depositi i tuoi euro o anche cripto una volta che le hai depositati nexo li presta ad altre persone e ti genera interessi tu avrai sempre comunque accesso alla tua liquidità in qualsiasi momento potrai prelevare contemporaneamente però ti genera interessi esempio sugli euro mi pare che si vada tra un 7 un 8 per cento annualizzato ovviamente nel caso di queste piattaforme qui essendo i soldi prestati non hai le assicurazioni che ti dà una banca attualmente quindi i tuoi fondi si sono tutelati sono protetti in mille modi su blockchain tutto quello che vuoi però se l'azienda fallisse molto probabilmente tu perderesti i soldi che hai messo là sopra quindi prendilo con le pinze è vero che da interessi molto più alti rispetto trade republic che è una banca e che quindi attinge dal fondo monetario europeo per ripagare eventualmente in caso di fallimento i fondi fino a 100.000 euro sono assicurati nel caso di nexo no quindi valuta molto attentamente e vai a soppesare il rischio comunque nexo è una piattaforma che utilizzo da cinque anni ormai non mi ha mai dato problemi ci sono anche altre piattaforme come uodler per esempio che danno interessi quindi ancora una volta vale lo stesso discorso di nexo sono piattaforme molto molto interessanti qua sotto ti lascio gli estremi si può investire in materie prime quindi si può andare ad acquistare per esempio i metalli oro argento fisico e così via si può investire in cripto abbiamo detto in bitcoin di nuovo se vogliamo andare sulle altcoin ci andiamo con un assetto speculativo si può investire in collezionismo esempio stanno andando tantissimo le carte dei pokemon quindi se sei un appassionato di carte pokemon c'è un suo mercato se sei un appassionato di vini c'è un suo mercato se sei un appassionato di quadri c'è un suo mercato se sei un appassionato le figurine dei calciatori anche loro hanno un loro mercato nell'ambito del collezionismo quindi vedi ci sono tantissime opportunità di investimento ci sono tantissime cose su cui si può investire bisogna trovare quelle con cui noi ci troviamo meglio che conosciamo meglio e che quindi ci permettono di muoverci più agevolmente sul mercato andando verso la nostra conclusione facendo un veloce recap di quello che ci siamo detti prima cosa su cui bisogna focalizzarsi e crearsi un fondo d'emergenza andando a ridurre il più possibile i debiti e contemporaneamente aumentando il reddito se è possibile farlo a questo punto si va a creare un piano d'accumulo abbiamo detto 10.000 euro non sono proprio una cifra enorme da investire è enorme per tante persone però ecco nel mondo degli investimenti non è chissà quale cifra in ogni caso è un ottimo punto di partenza e anche con una cifra di questo tipo negli anni si può fare veramente molto molto bene a patto che riusciamo a mantenerci con i debiti bassi e il reddito via via alzarlo in questo modo andiamo sì da un lato a ottenere gli interessi perché abbiamo i dividendi tutta una serie di cose che arrivano o l'apprezzamento degli asset che abbiamo il nostro portafoglio su cui stiamo investendo quel piano d'accumulo ma anche perché andiamo a creare nuovo denaro da poter trasferire da poter spostare all'interno di questi piani d'accumulo aumentando quindi esponenzialmente i risultati ultima accortezza pianifica con estrema attenzione quelli che sono i tuoi step tutto passa dalla pianificazione dalla gestione molto accurata del proprio denaro dei propri investimenti di qualsiasi cosa che noi facciamo le nostre uscite le nostre entrate e soprattutto farlo su orizzonti temporali lunghi quindi non posizionarti speculativo a meno che tu non sia un trader e sia in grado di fare trading posizionati su orizzonti temporali più lunghi quindi 5 10 anni 20 anni sarebbe l'ideale con il tuo piano d'accumulo con calma vai e ti diverti fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto ti lascio tutti gli estremi tutti i video tutorial delle piattaforme di cui abbiamo parlato ti lascio anche i link delle varie piattaforme così le puoi provare e ottenere anche dei bonus se utilizzi i codici che ti lascio sempre scritti qua sotto ti ringrazio per essere stato qui con me non dimenticare di iscriverti al canale per altri contenuti come questo un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video